Un protocollo di intesa tra l'Università Federico II e gli altri Atenei del Mediterraneo, un'occasione per gli studenti di conoscere nuove realtà e culture attraverso un continuo e proficuo scambio culturale. 12 le università coinvolte, volte del mondo arabo, una collaborazione che vede in prima linea l'Ateneo federiciano, che si colloca ancora una volta al centro del mare Nostrum. Ascoltiamo il rettore della Federico II, Gaetano Manfredi. Io credo che la diplomazia universitaria sia stata storicamente la diplomazia più efficace. Laddove non possono arrivare i governi, deve arrivare la cultura, la ricerca, la formazione, il rapporto tra i giovani, perché sono dei valori internazionali, sono dei valori universali e questi due giorni che abbiamo trascorso insieme e testimoniano come ci sia una vera unità di intenti tra tutte queste università che già sta portando dei risultati concreti. Abbiamo già dei giovani che vengono da questi paesi, che si formano presso la Federico II, quindi una grande opportunità concreta e anche la testimonianza che Napoli ha la possibilità di essere veramente nei fatti capitale del Mediterraneo. Un progetto che vede coinvolte tutte le facoltà, un percorso multidisciplinare che auspica ad uno scambio di competenze e di strutture per incentivare la ricerca, come si augura al professore di malattie odontossomatologiche Gilberto San Martino dell'Università Federico II di Napoli. Col di Ateneo significa tutte le facoltà, significa quindi enormi opportunità di scambi, investimenti a tutti i livelli e anche ricerca multicentrica, perché quando è multicentrica appunto è assolutamente un valore aggiunto.